segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te e vediamo il presidente bertinotti che sulla giacca una spilla che è la spilla della pace c'è anche poi una foto insieme al presidente napolitano che all'epoca era capo dello stato ora è presidente merito se la ricorda questa foto e si ricorda che tipo di reazione politica ebbe a quel momento in quella fase si la ricordo abbastanza ci fu molto nervosismo per una per una scelta che era una semplicemente una testimonianza siccome io penso che sarebbe bene che la festa della repubblica vestisse i colori della pace in conformità con la sua costituzione con la costituzione repubblicana con quel meraviglioso articolo 11 della costituzione scritta scritta da un cattolico di grande valore come come dorsetti e pensavo che appunto ci fosse un incongruenza ci sia anche un incongruenza nel manifestare con le armi una festa che ha iscritta in sé il codice della pace allora per quel poco che valeva essendo la mia una presenza tuttavia istituzionale con il presidente della camera volevo dire che si poteva anche istituzionalmente testimoniare per la pace con un piccolo gesto naturalmente non c'è non c'era niente di eroico sollevò scandalo perché ma perché c'è una coazione al conformismo a rifiutarsi di pensare criticamente che 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 investe soprattutto le istituzioni purtroppo e con cui forse non abbiamo ancora fatto i conti perché la riporto all'oggi presidente dal 2006 al 2022 il titolo della manifestazione di oggi era insieme per la difesa della pace tant'è che lo stesso capo dello stato ha detto l'italia deve recitare un ruolo da protagonista nella costruzione della pace e nella tessitura diplomatica per il dialogo ma perché in questa fase non si può costruire la pace armando l'ucraina continuando a dare armi all'ucraina per difendersi dalla russia dov'è la contraddizione se c'è secondo lei la contraddizione in sé tu così facendo ti metti nel percorso della guerra parli con il linguaggio della guerra è una cosa che il pontefice ha capito benissimo e della sua altissima cattedra morale etica e religiosa ha parlato chiaro il linguaggio della guerra è un linguaggio che imprigiona le possibilità della pace naturalmente perché vengono mandate le armi si vengono ammantate dalla possibilità di aiutare la difesa ucraina ma in realtà con progressivamente si è visto a partire dalla dichiarazione di importantissimi esponenti degli stati uniti d'america della guida della nato persino della von der leyen che l'obiettivo non è la pace è la vittoria ma la vittoria sia se invocata da chi ha fatto l'invasione ha prodotto la guerra sia da chi l'ha subita è il linguaggio della guerra e se non si fuoriesce da questo il partito della trattativa della pace rimane continuamente spiazzato soverchiato dalla politica di guerra come si fa a non vederlo è una cosa così elementare guardi io vorrei tornare un momento sull'italia la frattura di cui abbiamo parlato prima la resa manifesta il suo servizio poco fa da questa realtà della toscana dove dove che cosa si determina una divisione tra il paese reale stiamo vedendo le immagini ufficiale ecco qui in questa manifestazione c'è chi ci chi sono i protagonisti il popolo che abita quel territorio organizzazioni come gkn che è stata una delle più alte esperienze di conflitto sociale e di lavoro in italia non una di meno che una delle esperienze di femminismo più significative del paese e i partiti che non stanno nella maggioranza di governo in questa maxi maggioranza appunto quindi questo parte di popolo è in realtà senza rappresentanza politica il parlamento e questa rappresentanza di popolo pensa grosso modo come la maggioranza del popolo italiano purtroppo leggibile solo con i sondaggi e con e non con la partecipazione democratica il 51 per cento circa gli italiani è contro l'invio delle armi però il 100 per cento quasi del parlamento è a favore ma non come si fa non vedere che c'è in questa una crisi della democrazia ma c'è anche un altro tema presidente vorrei far vedere una foto meglio le voglio affiancare alle immagini non so se al ritorno video per questo gliela racconto alle immagini della manifestazione di elena tessi una manifestazione partecipata ma comunque una manifestazione locale le immagini delle manifestazioni oceaniche del popolo della pace contro la guerra in iraq che erano piazze anche contro bush e contro berlusconi quel movimento lì è stato così capace di gremire questa è piazza san giovanni a roma non sembra esserci più di chi è la responsabilità se c'è una responsabilità della crisi se c'è una crisi del movimento pacifista scusi è cambiato il mondo quel quel movimento pacifista è l'ultimo di una stagione è quella in cui intera generazioni si sono schierate contro tutte le guerre nel mondo ma le faccio notare che quelle guerre nel mondo erano guerre imperialiste e la dichiarazione di pace la manifestazione di pace era anche un'adesione alla lotta di quel popolo contro l'imperialismo pensi al vietnam lei ha citato queste manifestazioni io ricordo che dopo il movimento alter mondista che diversamente dalla politica corrente mise sotto accusa alla globalizzazione nascente non quella adesso in crisi quella nascente e disse che lì c'erano i germi della guerra e i neoconservatori americani inventarono la teoria della guerra preventiva per esportare la democrazia proponendo così un conflitto di civiltà sulla base di quel grande movimento di massa che aveva attraversato il mondo in italia vorrei ricordare genova oltre che per la tragedia anche per la partecipazione quel movimento di massa diede luogo al fatto che 100 milioni di persone manifestarono in un solo giorno quel movimento è stato sconfitto tanto che il pontefice giustamente ha potuto parlare della terza guerra mondiale a pezzi prima che avvenisse l'ucraina e per tutti questi conflitti la difficoltà di una mobilizzazione è stata grande anche perché si tratta di conflitti che ormai hanno delle caratteristiche prevalentemente imperiali non imperialiste la differenza significativa perché qui stiamo parlando della riscoperta della nazione della patria di una patria aggressiva contro l'altra di un putin che fa la guerra per riguadagnare il ruolo perduto della russia come grande potenza mondiale e del popolo ucraino che si difende giustamente si difende per difendere la sua autonomia ma in questa contesa che non che diversamente da quella precedente non ha nessun contenuto ideologico il problema non è schierarsi ma conquistare la pace su questo che naturalmente c'è un colpevole e ci sono però degli altri che non sono affatto innocenti affatto questo dibattito